Dalle persone schiacciate dal dolore. Perché i maestri immateriali del cerchio K a proposito del contatto con i piani superiori di esistenza parlano di mosaico evolutivo globale? Commento. Perché, se non si accettano, uno, gli illusi che credono di essere medium, due, i medium genuini che commettono frodi inconsapevolmente, tre, i medium genuini che commettono frodi consapevolmente, quattro, coloro che non sono medium e prendono denaro dalle persone schiacciate dal dolore per la perdita dei propri cari, cinque, se non si accetta tutta questa realtà, insieme a quella di Cenacoli che per decine di anni, attraverso grandi strumenti, sono protagonisti di grandi insegnamenti e di imponenti fenomeni affettivi e fisici, non si comprenderà mai il mosaico globale, attraverso cui la legge d'evoluzione impone progressivamente la sua logica divina e quindi perfetta.